buongiorno a tutti oggi è la giornata internazionale della consapevolezza del papillomavirus argomento che riguarda tutto il mondo questo è talmente vero che l'organizzazione mondiale della sanità ha deciso che nel 2030 l'obiettivo è quello di eliminare completamente il tumore del collo dell'utero che è un tumore femminile ovviamente come si può eliminare il tumore del collo dell'utero con due elementi fondamentali vaccinazione e prevenzione con pap e hpv questo riguarda le donne e da molti anni la vaccinazione per l'hpv si può fare nelle donne fino ai 45 anni di età però una nuova un elemento importante nuovo è invece la vaccinazione che possiamo fare anche nei maschi fino ai 45 anni di età questa cosa è stata approvata nel 2020 dalla organizzazione del farmaco americana e anche oggi in italia finalmente si può fare la vaccinazione anche nei maschi fino a 45 anni questo ci permetterà sicuramente in futuro di poter raggiungere quell'obiettivo importante di eliminare il tumore del collo dell'utero ma di eliminare anche gli altri tumori hpv correlati noi oggi cominciamo a sapere che l'hpv ha un certo peso sia nei tumori del distretto anale ma anche nei tumori del cavo orale e sicuramente la vaccinazione in questo è un elemento principale fondamentale quindi messaggio di oggi nella giornata internazionale proprio quello di vaccinarsi perché la vaccinazione è una vaccinazione efficace è una vaccinazione sicura e questo è veramente uno degli elementi principi della prevenzione per questi tipi di tumori